Se hai aperto questo video è perché vuoi scoprire ogni singolo segreto del mondo Nintendo compresi quelli che nessuno ti ha mai rivelato Rimani fino alla fine del video perché soltanto così potrai conoscere la verità Iniziamo Mario e Wario, due personaggi totalmente diversi l'uno dall'altro Tra di loro non c'è mai stata una grande amicizia e ancora oggi sembra essere così Ma pochi sanno che in realtà i due sarebbero dovuti essere fratelli Nonostante tutte le loro differenze caratteriali e fisiche Questo perché nei videogiochi del passato Luigi era in tutto e per tutto il clone di Mario Ad eccezione dei colori della tuta da idraulico Per differenziare questo aspetto Nintendo pensò di sostituire Luigi E rendere il fratello di Mario fisicamente più robusto Con un carattere molto particolare e con una passione per il denaro Alcune caratteristiche vennero confermate durante la creazione di Wario Ma per quanto riguarda il legame di parentela Nintendo fece un passo indietro Cercando quindi di andare a migliorare l'aspetto di Luigi Grazie anche alle potenzialità delle nuove console E rendendo di fatto Wario uno dei tanti antagonisti principali della serie The Legend of Zelda è senza ombra di dubbio una delle serie Nintendo più belle in assoluto Ma ti sei mai chiesto quale fu la reale ispirazione che diede vita al personaggio di Link? Tra il 1954 e il 1955 venne pubblicato in tre volumi il romanzo fantasy di Il Signore degli Anelli Questi libri contribuirono notevolmente in termini di ispirazione per la creazione di nuovi personaggi di gioco nella serie di Zelda Uno dei protagonisti è Legolas, un ottimo arciere elfo Ed è grazie a questo personaggio che Miyamoto nel corso degli anni riuscì a perfezionare l'aspetto e le abilità di Link con l'arco e le frecce Dando la possibilità al giocatore di sentirsi più soddisfatto dopo aver sconfitto un nemico dalla lunga distanza Oggi Animal Crossing è una serie di grande successo, amata da grandi e piccini Non tutti sanno che inizialmente Animal Crossing sarebbe dovuto essere un titolo simulativo molto più vicino a The Sims Proprio per questo motivo Animal Crossing prevedeva tutta una serie di meccaniche molto simili alla vita reale Come cercare un lavoro, guadagnare stelline per espandere la propria casa, interagire con altri abitanti umani presenti nel villaggio Tuttavia per non rischiare di creare un vero e proprio clone di un videogioco di enorme successo Nintendo decise in seguito di inserire animali al posto di umani Un orologio con scorrimento di tempo reale e tanti altri elementi che nel tempo hanno contribuito a rendere la serie di Animal Crossing una delle più apprezzate nel mondo Super Mario World 2 Yoshi's Island è il gioco che precede cronologicamente ogni titolo della serie di Mario Ma attenzione perché quanto sto per dirvi potrebbe farvi uscire letteralmente fuori di testa Questo gioco ci mostra per la prima volta Mario e Luigi in versione Baby Ed è inutile dirvi che i due fratelli sono gli attuali eroi del Regno dei Funghi Ma c'è un dettaglio legato a questo gioco che quasi nessuno conosce Durante le battute finali del titolo le ultime sequenze di gioco ci avrebbero spiegato che i due piccoli protagonisti sarebbero dovuti essere i figli di Mario e della principessa Peach Avuti poco tempo dopo aver battuto Bowser ed essere ritornati nel villaggio degli Yoshi Così come ci viene mostrato nel finale di Super Mario World Di fatto Baby Mario e Baby Luigi sarebbero stati figli di un altro Super Mario Peccato che in fase di sviluppo del gioco l'idea venne scartata per non suscitare malcontento o incomprensioni nei giocatori più giovani A causa del legame particolare tra i personaggi di gioco Super Smash Bros ha in parte rivoluzionato le basi del picchiaduro Differenziandosi dai classici Tekken, Street Fighter E offrendo una nuova possibilità di sconfiggere gli avversari durante uno scontro Di fatto il livello di violenza è nettamente inferiore rispetto a un qualsiasi Mortal Kombat per intenderci Eppure nei piani di Sakurai c'era l'intenzione di aggiungere un'opzione che rendesse il tutto molto più realistico Ad esempio, una volta attivata questa opzione, dopo una certa percentuale di danno I vestiti dei lottatori avrebbero subito lacerazioni e diversi tagli in alcune parti dell'abbigliamento I personaggi equipaggiati con armi, come Link e Samus, potevano causare maggiori danni agli avversari Lasciando ferite visibili sul volto e su tutto il resto del corpo L'idea era ambiziosa, ma al tempo stesso decisamente molto rischiosa Dunque, per non rendere la serie di Smash molto più violenta del solido E adatta solamente ad un pubblico maggiorenne Sakurai fu costretto ad abbandonare questa ipotesi Sei senza parole? Lo so, lo so Ci siamo passati tutti Scrivi qua sotto nei commenti quale tra questi segreti ti ha colpito di più E ricordati di premere il tasto iscriviti Ti ringrazio per aver visto fino a qui Noi ci vediamo in un prossimo video Grazie ancora e buon inizio aprile A tutti voi